E' giunta la prima vittoria della Volleyball Lucera che ha superato nella quarta giornata del campionato di Serie B Girone E di pallavolo in trasferta 3-0 la Volley Gioia. Una vittoria importante che consente ai ragazzi allenati da mister Dellicarri di uscire dalla zona bassa della classifica. A gioia del colle si è concretizzato così il primo e utile successo della Volleyball Lucera che ha chiuso i tre set senza troppi problemi. Concentrati, determinati e pronti a riscattarsi dopo le prime tre sconfitte di campionato, i pallavolisti del Lucera hanno sbagliato davvero poco. I parziali della gara sono stati 16-25, 21-25 e 17-25. Ora bisognerà dimostrare continuità e attenzione nel proseguo del campionato.